Mi chiamo Gianluca Montone, ho 30 anni e vengo da Avellino. Ho partecipato a questo contesto con il progetto Rubrik, un progetto di un espositore composto da un elemento che, assemblato, potesse dirigere lo sguardo verso punti di vista preorganizzati. Il progetto ha trovato difficoltà nell'assemblaggio e nell'organizzazione dei componenti e nell'innesto degli stessi. Stiamo studiando degli incassi particolari per cercare di ottenere un elemento molto pulito, in modo tale che le superfici possano comunicare questo senso di solidità dell'elemento e quindi anche comunicare maggior valore al prodotto che si va ad esporre. Questo workshop sicuramente migliorerà il mio modo di progettare perché sono stato a contatto con aziende, con persone molto qualificate, tecnologie nuove e anche persone che dal punto di vista umano ti fanno crescere. Trovarsi a lavorare col cartone per me è stata un'esperienza nuova, pone dei problemi, delle soluzioni e su questo sia lo staff del contest che le aziende sono state molto disponibili.